Si avvicina il Natale, ma hai già pensato ai regali? Vieni d'acqua e sapone! Qui trovi mille idee per far felici le persone che ami! La carta igienica Nikkie Fashion da 12 rotoli è a 5,90€ L'asciugatutto Nikkie Limone nel formato da 4 maxi rotoli con il 20% di prodotto in più è a 4,49€ E con l'acquisto di due confezioni subito in omaggio ai nuovi fazzoletti Fashion dal pratico pacchetto a portafoglio, adatto ad ogni occasione Prova la linea Age Perfect Renaissance Cellulaire di L'Oreal Paris Le creme viso, giorno e notte sono a 15,90€ ciascuna Il Sierra Midnight è a 18,90€ E solo da acqua e sapone con un trattamento viso L'Oreal Paris della gamma Age Perfect in omaggio a un magnifico kit trattamenti Sabato 16 dicembre fai la spesa d'acqua e sapone in omaggio a un contenitore in latta per biscotti con due ricette firmate da Anna Moroni Auguri! Acqua e sapone, oltre la convenienza! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!